Musica Musica Perfetto Perché poi magari Tra due anni veri E' un'esercizio E' un'esercizio E' un'esercizio Ma come fa bene Ci sono più Questa storia Tutto bene Eh si Di sotto e non c'è Ah eh Tutto bene partiamo Ok allora Ok Andiamo avanti In questo livello Si Attimo Ah ok scusate un attimo Con la tela c'è Ok Allora Vediamo il livello Si dà ci avanza Ok Molto bene Per ora Niente di impossibile Devo solo Riprendere L'abitudine Ok 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 Oh Lo sento Ora arrivo a fare un po' Non è proprio brutissimo Ok 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 Sì. con l'ultima parte sono felici perché non lo è ok è finito grande prima di fare all'ingrado A perché non sono mai morto ah è vero che qua non ci sono i gradi che cavolo puoi disattivare la modalità casuale ok tanto io non c'è tutte le forme sono uguali ok molto bene è un golinio magico ok non serve un gran ok 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 e così sbloccheremo la barchettina magica dalle sette meraviglie vai caschi e così ok grazie sì è il modo che io per ora anche come sono fatto gli attacchi ok non c'è la realtà è il modo che io per ora o non c'è Grazie a tutti. Oh oh, ora arriva la fase compata. Oh 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 oh! No 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 no, aiuto. Ok no, allora era come me lo immaginavo. Ah, David. Bella, bella. Oh! Ah, è bello. Venti! Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Bene. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 torna qua vediamo cosa succede salve i tuoi amici prima che vadano alla dediva fuori dallo schermo in interna modalità storia a nuovere ci ti aspettano negli sfidi abbiamo sbloccato il treno delle vele sal con noi facciandoli più o meno in ordine ok seppcon di big giant oh questo qua mi suona familiare mi suona familiare calvissimo familiare però ora è carne un po' il soggetto diventerà hard ok si sta caricando è come il soggetto di press dovrei ricordare non lo so si è come quello si è come quello si upgrada non oh 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 my god ok ah si è come quello si è come quello si è come quello vai 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 oh guarda oh ok è meglio che non mi sponga ma le vette la mosca non beh Gli ultimi livelli e poi sblocchiamo anche la navetta, siii Andai, ok, grazie Anche questa qua mi sa che ho già sentito la quattro parte Tanto a me la musica Mosca ma Oh Oh no Ok Oh Non ero detto qui Oh si si me la ricordo di qua No Mi ricordo prima E' bella E' bella E' bella dai Forse E' bella E' bella E' bella Oh 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 Eh Eh E' bella E' bella E' bella Cause The ~!! Doug e e e e e e e e e Sì, sì, sì. mi piace la musica cerca gli artisti questo è solo un assaggione fantastico e niente per il contesto non esiste ok ma bella pronto no molto bello ok 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 quasi ok oh no no aiuto no 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 ok 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 un king che bello altri king ok da buffers da buffers ecco è una cosa da fare che dobbiamo fare da buffers da buffers di omni ok però ora sembra molto carina e molto bella ma saranno messi in questo gioco ci sarà un motivo quindi sei sicuro che mi sarà sempre possibile oh ok guarda lascia pensate che in questo gioco c'è anche la scuola guarda lascia ok aus attenti che non ci sono tutte insieme ma sono a posto non no no perché ma la attenzione attra 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 Perché dell'extrame amount di bass Listener's discretion is advised 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 Ok ragazzi, dopo aver finito di registrare Mi sono accorto che il video durava ben troppo E quindi Questo episodio sarà Spezzato in due parti Di cui questa è stata la prima Quindi noi ci vediamo Quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like, iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao ragazzi